salve ragazzi benvenuti nel canale alienology io sono ali e quest'oggi non sono qui per una recensione per un blog niente sono per un nuovo tipo di video che inauguro proprio oggi e cioè l'unboxing cosa sarà cosa sarà questo pacco andiamo subito a vedere vediamo se faccio un cofanetto in realtà il cofanetto non c'è ma in realtà c'è il cofanetto sembrava non ci fosse però il cofanetto è questo qui praticamente sono i blu ray 4 blu ray dei sette film della saga di nightmare on ham street vediamo se riesco ad aprirla si è abbastanza facile aprirla dai almeno questa bel cofanetto preso ieri con il black friday in offerta ad un prezzo che non vi dico perché è veramente irrisorio anzi ve lo dico 10 euro 99 c'è un prezzo davvero non potevo non prenderli allora ecco il primo nightmare on ham street vediamo se riesco ad aprirlo ecco qui niente soltanto disco però comunque il disco c'è ed è anche molto bello questo è il primo poi c'è nightmare 2 e 3 quindi praticamente l'uno è da solo sul blu ray sul disco mentre su questo ce ne sono due c'è il 2 e il 3 eccoli qui poi c'è ma per 4 e 5 il non risveglio e il mito il nostro blu ray con due film e poi nel per sé la fine è il numero 7 invece nel 7 il nuovo incubo che è quest'ultimo di questo classico una saga classica horror come nightmare che io amo tantissimo e pur avendo alcuni dvd non mi sono lasciato sfuggire questa questa offerta di questa insomma di questi blu ray di questo cofanetto che era assolutamente da prendere eccolo qui vi faccio rivedere prima di chiudere 1 nightmare 2 e 3 nel 4 e 5 nightmare 6 e 7 quindi come avete potuto vedere non porto soltanto fumetti o videogiochi questo è stato mio primo unboxing ve ne porterò altri non è appena possibile questo ve lo dovevo ragazzi perché la mia saga horror preferita di sempre nightmare on ham street per chi qualcuno di voi un po più piccolo d'età magari non avrà mai visto ve lo consiglio nightmare on ham street grazie ragazzi ci vediamo al prossimo video ciao